Il 2 aprile è la giornata scelta per richiamare l'attenzione di tutti sulle problematiche e sui diritti delle persone affette da disturbi nello spettro autistico. Molte sono le azioni promosse per sensibilizzare la popolazione su questa tematica, soprattutto nel mondo della scuola. Lo sportello autismo di Belluno è un servizio scolastico a carattere provinciale che ha l'obiettivo di supportare i docenti che hanno in classe alunni con disturbi dello spettro autistico attraverso uno scambio di esperienze e buone pratiche. Oltre alle diverse iniziative che realizza nelle scuole della provincia, organizza ogni anno corsi di formazione per gli insegnanti ed iniziative di sensibilizzazione in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale e con gli altri sei sportelli provinciali del Veneto. Filo conduttore della giornata mondiale dell'autismo è il colore blu ed è anche il filo conduttore delle tante attività realizzate dagli alunni nei vari istituti della provincia, dall'infanzia alle superiori. In questi giorni lo sportello autismo sta raccogliendo foto e video dalle varie esperienze proposte nelle scuole, cartelloni, disegni, ascolto di fiabe e poesie, lettura di libri, visione di cartoni animati o film sulla ricchezza della diversità e sull'autismo. I materiali verranno pubblicati dopo il 2 aprile nel sito dello sportello autismo. Quest'anno lo sportello ha collaborato anche alla distribuzione nelle scuole del libro a fumetti Sono autistico, vi racconto cosa vuol dire, realizzato da Elena Collazzuol con le illustrazioni di Roberto Totaro. Anche tramite questo materiale i docenti hanno sensibilizzato con varie azioni i propri studenti alla conoscenza dell'autismo e alle adeguate modalità di relazione con i propri compagni con autismo.